Che cosa sei tu? Un orsetto? Sei un orsetto polare? Lui è Pietrino, un altro bellissimo, splendido cucciolotto, paciocco paciocco, portato in canile sempre dalle persone che dicono di averlo trovato. Io non so chi sono, ma tutti questi cani che trovano come funghi, sì è vero i cani si trovano, ma si trovano i randaggi, i figli di randaggi, quelli circolano, questi qui vengono dalle proprietà e li fanno passare per cani trovati. Cos'è? Non lo volevano più perché diventa grosso? L'avranno preso a 30 giorni magari, adesso sto ipotizzando che era piccolo, poi è diventato quello che è diventato un cucciolo, si vede, di futura taglia medio-grande, se non proprio grande, e non l'hanno più voluto e l'hanno portato in canile. Che vita fa Pietrino qui in canile? Ve lo dico io, sta sul cemento, è vero che può uscire un po' a correre nell'area del sanitario, dove c'è l'erba, sì, ma quanto tempo al giorno? Parliamo di pochi minuti, il tempo di pulire i box. Che vita fa questo cucciolo? Come si sta formando questo cucciolo? Senza stimoli, vede solo canile, sente solo l'abbagliare dei cani, vede lo stesso operatore e basta. Ogni tanto volontari? Lui è nell'età in cui dovrebbe già andare in famiglia e questa famiglia lo dovrebbe guidare alla scoperta del mondo, diventando il suo punto di riferimento saldo, così lui non avrà paura di nulla e crescerà sano ed equilibrato. Devo dire che questo piccino è già equilibrato, perché per esempio, vedete, non è nemmeno iperattivo, è un coccolone, adesso è a disagio il piccino perché sta sul tavolo. Cosa credete che per lui sia normale? Ecco che mangia i biscottini. Cosa credete? No, naturalmente lo sa che è in una posizione scomoda e si preoccupa. Amore, ti preoccupi tu? Eh, non ti devi preoccupare di nulla, perché ci sono io. Ma normalmente è tranquillo, è un bravo cucciolo. Del resto i cani di taglia grande e risaputo sono più tranquilli dei cani piccoli. Lui è un incrocio mare in mano? Certo che sì, certo avrà qualcosa del mare in mano, ma non è bianco, è un po' biondino, quindi chiaramente non abbiamo a che fare con un mare in mano puro. Sicuramente la razza da pastore predomina, non vi posso dire che c'è del golden, posso dire che il colore è quello del golden, ma chiaramente un golden non è, però i cani da pastore, guardate, sono cani veramente speciali, intelligentissimi, a cominciare dai pastori mare in mani, sono dei signori cani. Questo diventerà un bellissimo cagnolone. Se voi lo fate socializzare, gli fate fare subito le esperienze giuste, lo potrete portare ovunque. Chiaramente se lo tenete rinchiuso nella vostra casa di campagna e non lo conducete a fare esperienza fuori, avrà paura e magari avrà un atteggiamento ostile nei confronti di chi e di cosa vi mette paura. Da voi dipende, la base ce l'ha questo cucciolo, è un buon cucciolo. Un bravo cucciolo, non ha paura come Elisa per esempio, ha una buona base, dipende da voi. Allora ve lo portate a casa? Quanto hai piccolo? Quanto hai? Tre mesi, non di più, scarsi tre mesi. Quanto diventi? Tu una quarantina di chili? Sì, sì, diventerà 30, 40, chi lo sa? Però secondo me sì, sì. Poi qui sta bello pacciocco pacciocco, perché mangia. Eh sì. E niente, lo riporto a posto. Sta bene con questo papion scozzese? Sì che sta bene, sta bene con tutto. È un amore dolce. Fate un pensierino per lui. Andiamo a posto Pietrino. Abbiamo fatto delle belle foto, perché sei veramente fotogenico. Speriamo che ti portino fortuna. Ciao amore, andiamo. Andiamo amore, andiamo. Grazie a tutti.